Movida Locka Television Dove i più grandi eventi contano Noi ci siamo Parte un grande appuntamento con Movida Locka Television Questa sera le telecamere si fermano a Casalnuovo in provincia di Napoli Da Giana Risto Pub e Pizzeria Perché festeggiamo la donna Ovviamente nei più grandi eventi che contano Movida Locka Television c'è Partiamo da Giana Casalnuovo Napoli Grazie a tutti 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 E soprattutto voi che avete scelto di stare con noi Termina qui Movida Locka Television Ciao Peppi Ciao Mario grazie E venite da Giana Parola mia Un consiglio di Mario Pelliccia La pagina Facebook è quella scritta qui Ciao Movida Locka Movida Locka